ciao a tutti oggi prepareremo la marmellata di peperoncini piccanti il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa ingredienti sono peperoncini piccanti freschi mele pomodorini ciliegino e zucchero di canna diamo il via alla ricetta mettere nel boccale i peperoncini le mele e pomodori ciliegini e andiamo a tritare il tutto per 10 secondi a velocità 8 andiamo a riunire sul fondo del boccale adesso aggiungiamo lo zucchero di canna chiudiamo con il coperchio senza il misurino al posto del misurino andremo a posizionare il cestello per evitare gli schizzi e facciamo cuocere per 20 minuti 100 gradi velocità 3 2 scusate la marmellata è pronta andiamo a trasferire in dei vasetti marmellata di peperoncini piccanti grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti